12 aziende a retine in partenza per Verona. Ci saranno infatti anche vini di Arezzo assieme alla Camera di Commercio alla 52esima edizione di Vinitaly, uno dei più significativi eventi internazionali di promozione dell'enologia in programma dal 15 al 18 aprile. La Camera di Commercio sono 45 anni che accompagna con un proprio stand le aziende del nostro territorio. Devo dire che il nostro territorio, la nostra provincia era già famosa per i vini nella storia antica, durante l'antica Roma, infatti la maggior parte dei vini consumati arrivavano proprio dalla nostra provincia che era famosa per i vini bianchi e per i vini rossi. Oggi questa eccellenza, questa qualità è cresciuta ulteriormente e abbiamo delle etichette che ormai sono conosciute a livello di tutto il mondo. Abbiamo diminuito la quantità di vino prodotto ma siamo andati soprattutto verso la qualità e come ripeto abbiamo raggiunto un altissimo livello qualitativo, tant'è vero che riusciamo a esportare i vini della provincia di Arezzo un po' in tutto il mondo. Nel 2017 il valore del vino a retino esportato è stato di circa 84 milioni di euro. I paesi più importanti per l'export a retino sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito ed infine Stati Uniti. Una volta veniva assolutamente privilegiata la quantità, quindi il numero delle bottiglie prodotte, ma ormai da 20-25 anni a questa parte si guarda solo ed esclusivamente quella che è la qualità e l'eccellenza del vino prodotto. Questo ripeto è stata una scelta vincente che ha fatto sì che oggi molte aziende vitivinicole della nostra provincia siano diventate dei punti e dei momenti di riferimento per l'intera agricoltura mondiale.